wow grandi amici del tubo ben ritrovati qui sul canale cc music ragazzi è tornato il trevor dopo sei mesi di assenza sono tornato a fargli il culo esattamente oggi torniamo subito con una bella sfida classe un classico direi una bella sfida tra di noi allora io ho preso il portentale brazers con il buon lillard che sta facendo i disastri quindi sarà così e lui e io i miei cari toronto raptors di the incredible e il suo cuginetto tresseme grazie 99 2000 quindi andiamo a vedere chi vince ovviamente neanche stiamo a parlarlo però dai facciamo finta che potrebbe esserci una partita siamo pronti ragazzi pronti per la palla 2 ma l'air canada center con air canada vince carter bella bella lilla il salto mia però mia intanto guarda che piccolino da centro dai palla vince carter e pedalare già prime azioni che vabbè ok lasciamo stare non c'è ma qua porta caldo tripla di lillard madonna farà tutti i canesti con lillard già bello sopra valutato il dammi gli ho stretto la mano io a lillard ragazzi è comunque per la cronaca se volete che vi racconti la storia non c'è la storia però vabbè è una bella storia che non c'è però gli ho stretto la mano lillard signori più che stretto la mano in realtà mi ha dato il cinque ultimo minuto del primo quarto 9 a 8 abbiamo giochicchiato con i toronto raptors in questo primo quarto adesso guardano fuori bellissimo per cj perché ogni volta che registro viene fuori aggiornamento richiesto c'è proprio scritto nel contratto della nba comunque 12 a 8 ultimazione il primo quarto 20 secondi balla toronto ray di raro lauri questo con il 7 grande è incredibile parla per antonio davis che è l'ora l'ultima azione ce l'ho io se ne va me calma attenzione lo fa saltare non salta paleggiare su tiro bengno finisce il primo quarto 14 12 si parte secondo quarto ragazzi palla porta entra i brazi più due anche già oh no no dai 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 non stiamo di il cazzale stoppalo bravissimo la chakedown di miles leonard mamma mia come lebron praticamente vomitare guarda maes guarda maes leonard mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia maes leonard cazzo s'è questo sorpasso via 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 contro piede via contro piede con cj davvero lì ancora lì bellissimo bello scambio ammettimela tripla bravo così ma non era non era la 3 dai silenzio 21 27 no bellissimo ma perchè sbaglio mi sbaglio mi sbaglio sempre salto schiacciali così perché quelli la carta di 9 a 0 di parziale due tiri anche ma dai ma cos'è la per la morte c'è il madama che vergogna che vergogna insomma miga cavallerizzi qua più 10 che gioco vergognoso dov'è dov'è guardalo là guarda come io osservo adesso il mio uomo chris cayman guardalo qua guardalo qua chris chris coi movement in post basso mamma mia mamma mia chris cayman più 10 ma cosa se celebro lesi dio cristo bel passaggio vince così primo tempo 3 1 2 4 port and trade razors trade brothers che c***o lillard a comandare con chris con chris cayman da due punti il 66 per cento del campo parla chiaro si parte secondo tempo ragazzi perché c'è roberts in casa non ha preso sostituzioni che coglione mi a giocare senza nessuno non c'è problema non c'è problema siamo una squadra operaia guarda qua roberts bravissimo da là fuori chi s'è questo non so però perché è ghiacciato lillard dai coglioni perché è scarso scusa eh scusa silenzio direi cioè come virilli ti ho scartato mamma mia pari 33 3 attenzione ragazzi hai visto quella motoretta con la motoretta prendete sto picchi a row sto picchi a row mette sulla moto o così ok lila dai ma dai damnian lila più due mamma mia mamma mia questo è buono non salta neanche un foglio di carta figa ma ma no un fenomeno guarda che stoppa McGrady guarda che stoppa McGrady maester mamma mia ma chi è quel the wall the wall ma chi è quel the wall bravissimo oh eeeh che fallo era scandaloso ma mamma mia scandaloso mi hanno fatto i 50 così anzi anche peggio finisce terzo quarto non so quanto non so quanto più 4 mi pare quarto quarto partito pala toronto writers che sono sotto di 4 devono rimontare in questo quarto quarto ma si sa che il quarto quarto è territorio di caccia per damian lila quindi attenzione attenzione soprattutto l'altra parte di Lillard ancora by Serri by Serri più 5 mamma mia volevo far segnare solo Lillard sto facendo segnare più Leonard mamma dalla in angolo bellissimo per Lillardone da tre no ma dai ma dai ma non è possibile it's Lillard time quarto ma è Lillard sto cazzo due minuti alla fine più 6 it's Lillard time ripeto la palla pesa la palla pesa come sempre tutelata dagli arbitri palla pesa rilascio verde come sempre tutelata dagli arbitri tutelato rilasci verde tac no come si è dava via quel balone no si ma porco by Serri by Serri Lillard time Lillard time attacca il ferro Lillard con la moto it's Lillard time 7 punti in fila che gioco vinto ok ah tirazzo tirazzo by Serri andiamo per la pugnalata per la pugnalata per la pugnalata era l'ultimo tentato Lillard per la pugnalata da tre da tre it's Lillard time mamma mia 10 punti in tira ti ho detto io ti ho detto it's Lillard time lo so finisce così 5-4 4-3 riporto il 3 bases e per questo amo qua risultato inesatto Damien Lillard signori che non rispecchia i veri valori delle squadre e cosa si è visto in campo perché cosa si è visto in campo è una vergogna una vergogna silenzio 28 28 di Lillard con Mice Lillard da 6-5 rimbalzi in 12 minuti e 3 stoppate mamma mia di cui una stereofonica guarda guarda ti dico parla da solo parla da solo Lillard 2 punti Lillard 3 punti Lillard 1 punto 2 punti 3 punti 1 punto ti dico solo questo it's Lillard time da tre minuti alla fine la segna solo lui e silenzio e per questo video può essere tutto dopo con questa schiamata parla da solo il video parla delle statistiche normali lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale per vedere altre sfide con il Trevo che torneranno sicuramente poi la FIFO in furia ci organizzeremo per fare tutto un bel commento anche a FIFA un bel commento i social sono in descrizione ci vediamo nel prossimo video bella ciao